Buongiorno, sono Teresa Marica Puto del TGLT 4 Globo Flash News. Passiamo ora alle notizie. San Donà, dal 6 maggio, nuovi appuntamenti culturali con l'Accademia Moderna. Nel mese di maggio sono pronte a partecipare a partire nove nuovi appuntamenti con l'Accademia Moderna di San Donà che all'interno della libreria moderna promuove un'idea di cultura intesa come spazio di benessere e relazione dove la condivisione dei saperi diventa un'esperienza arricchente e coinvolgente. Saranno tre le tematiche dei nuovi corsi suddivisi in tre appuntamenti ciascuno The Royals, Re e Regione, del Pop e del Costume, Made in UH. Vedrà come relatrice Heidi Furlanis, lunedì 6, 13 e 20 maggio alle ore 19.30. Guerra e pace nella mitologia attraverso le donne condotto da Chiara Polita nelle giornate di mercoledì 8, 15 e 22 maggio alle ore 19.30 Silvia Platt, Virginia Wolf, Dorothy Parker I diari tenuti da Heidi Furlanis, lunedì 3, 10 e 17 giugno alle ore 19.30. Si tratta di un percorso iniziato in ottunno e poi costruito un passo alla volta, spiega Alessia Pavan, direttrice tecnica dell'Accademia Moderna, cercando di andare incontro alle richieste del pubblico. Uno degli obiettivi dell'Accademia Moderna consiste nel dare alle persone la possibilità di regalarsi una sorta di bolla in cui star bene. Ecco perché se qualcuno decide di venire all'ultimo momento mi trova al primo piano della libreria pronta ad accoglierlo e ad aggiungere una sedia sebbene i posti siano limitati e venga data priorità a chi acquista un corso completo. Durante le lezioni le persone riconoscono l'elevato livello qualitativo delle relatrici e nel contempo si contentano parte di qualcosa di bello. Questo riassume il senso dell'intero progetto. Alla fine del corso, tenuto da Arianna Capiotto, intitolato La nascita della scrittura e dell'alfabeto. Ad esempio, una signora era talmente felice del tempo passato insieme che ha portato dei biscotti a forma di cuore per tutti gli iscritti. Cose così accadono spesso e confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Concludendo questo TG, io vi saluto a voi telespettatori e vi aspetto alle prossime notizie.